Radice, Bella Roma è un momento non felice, un punto nelle ultime tre partite, si è inceppato qualcosa? Beh adesso andare a rifarci anche delle altre gare non mi sembra il caso, noi se dovessimo commentare solamente gli ultimi dieci minuti di questa partita certamente siamo una squadra da rifare però vorrei così ricordare anche perché in questi momenti poi bisogna ricordare anche le cose che la squadra ha fatto di buono Radice preoccupato, la sua Roma in questa stagione ha ritrovato un'antica dignità ma ora teme di perderla oggi contro la rabbiosa Atalanta del dopomilan pecca infatti di personalità e precisione proprio nei momenti decisivi della partita dopo aver sfruttato il tempismo di Nela libero al posto di Comi sul tiro di Bortolazzi la squadra giallorossa non approfitta ad esempio dei problemi tattici che dopo appena dieci minuti sembrano condizionare i bergamaschi Nicolini si infortuna e Mondonico partito con una sola punta, Canigia, per disorientare i marcatori romanisti è costretto a tranquillizzarli inserendo l'attaccante puro Bresciani pur con compiti manovrieri così, abbastanza a sorpresa, i nerazzurri vanno in gol grazie allo scatola dente di Canigia che frastorna Pellegrini e alla prepotenza di Bonacina detto il ragazzo catapulta la Roma si scuote ma il clima di battaglia che purtroppo si ripeterà fuori lo stadio con scontri frateppisti non si addice ad alcuni suoi VIP un po' troppo accademici in avanti Föller subisce le attenzioni prima di contratto anche lui acciaccato e sostituito da Barcella e poi di Bertova e il più spregiudicato è dunque Rizzitelli fermato da Ferron a inizio secondo tempo a sorpresa e l'Atlanta a sfiorare il raddoppio naturalmente in contropiede con Madonna e Bresciani i giallorossi si nervosiscono e comunque tornano a premere con discreta insistenza dopo l'occasione di Gerolin ecco la prudezza di Ferron su botta di Föller Bruno Conti rimpiazza Tempestilli ma è soprattutto l'Atlanta a poter disporre di Canigia versione Ghepardo ed il secondo gol a chiusura di un'azione da videocassetta campionato per idea ed esecuzione e Bortolazzi a infilarlo a quel punto manca solo la rete dell'Argentina che giunge puntuale a festeggiare il cross di Madonna Giuseppe Giannini e i capitani spettano sempre onori e oneri oggi forse è il momento dell'autocritica Dico che a Roma ha giocato la sua partita abbiamo preso gol dopo dieci minuti credo una partita in salita dove loro poi hanno sfruttato molto bene il contropiede una Roma che sicuramente ha avuto la supremazia del territoriale vi manca Manfredonia vi manca in effetti molto avete fatto un punto nelle ultime tre partite è una coincidenza o no? ma sicuramente lì ho un grandissimo campione lo aspettiamo a più presto però adesso dobbiamo farne purtroppo o meno Buona Cina vuol farsi bello comunque non c'è bisogno visto che hai segnato un grande gol eccolo con Bortolazzi e Canigi tre grandi protagonisti di questo incontro l'euro goal di oggi a chi spetta? Bortolazzi ma sono stati belli tutti e tre è importante che alla fine contribuiscono a far vincere l'Atalanta Canigi ad un mese è ormai il migliore in campo quasi il più bel gol di oggi sicuramente il gol dell'ora due sicuramente era stato il più beli no? per come si è originato la scioccata no? Buona Cina al secondo gol in una settimana domenica scorsa di testa oggi invece di piedi sì è un momento particolare per me è importante però che vinca l'Atalanta dove vuole arrivare quest'Atalanta? in zona UEFA più che mai Canigia? sì sì sicuramente l'obiettivo di questa squadra è arrivare in Coppa UEFA tre Cremonese e Atalanta pareggio